Notizie di Prato Tg, a tutti buonasera, ha preso il grossista delle bici rubate, la polizia ne ha recuperate nove e ha denunciato un uomo di 54 anni, la cronaca. Con pochi euro comprava biciclette rubate, le riverniciava e poi le rivendeva. Un affare evidentemente redditizio, quello messo in piedi da un cinese di 54 anni che ieri al termine di un'indagine della squadra mobile è stato denunciato per ricettazione. Nella sua casa, in via Respighi, sono state trovate sequestrate nove biciclette da passeggio e sportive, due delle quali con pedalata elettrica assistita. Secondo le indagini, l'uomo acquistava le biciclette da tossicodipendenti che incontrava nei giardini di via Colombo. Oltre alle bici, sono stati sequestrati dalla polizia anche 50 caricatori universali e 34 blocchetti di avviamento per mezzi elettrici e 24 connettori di collegamento universale di alimentazione per batterie. Al momento, solo una bicicletta è stata restituita al suo proprietario, un uomo di 86 anni, residente in provincia di Bologna, che aveva denunciato il furto ad agosto dello scorso anno. Le altre bici potranno essere visionate da chi ha subito e denunciato il furto. Per vederle, è necessario contattare la segreteria della squadra mobile allo 0574 55 53 55, da lunedì al venerdì dalle 11 alle 12. Occorre poi presentarsi all'appuntamento portandosi dietro la denuncia di furto o documenti che provino l'acquisto o la proprietà del mezzo. Incidente sul lavoro questa mattina all'accoppiatura pratese in via Pola a Montemurlo, attorno alle 8 e 15. Un operaio di 46 anni è stato investito da un muletto in retromarcia mentre si trovava nel piazzale della ditta. L'uomo è stato colpito solo ai piedi. I colleghi hanno subito dato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso in codice giallo. L'operaio ha riportato la frattura di un piede. La prognosi è di 30 giorni sul posto. Anche i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell'Asla Toscana Centro per gli accertamenti sul muletto e anche per la ricostruzione della dinamica di questo infortunio sul lavoro. Tobbiana presto sarà collegata con la tangenziale. Ci sono passi in avanti per l'esproprio della gioielleria Pace. Sentite, Alessandra Grati. Dopo anni di attesa, Tobbiana sarà collegata con la tangenziale. La Commissione Urbanistica ha approvato, con sei voti a favore e tre astenuti, la variante che prevede la realizzazione del tratto di strada tra Via Amati e Via dell'Orsa Minore. A bloccare il progetto, fino ad ora, l'opposizione della gioielleria Pace, la cui sede si trova proprio sul tracciato della nuova strada. Adesso, con il via libera dell'esproprio, l'iter potrà procedere spedito. Prossimo appuntamento, giovedì con il Consiglio Comunale, che dovrà votare la variante. Un percorso che è durata o anni, ha spiegato l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis, ma che ora vede la fine. Ai proprietari della gioielleria è stato offerto un terreno, a pochi metri di distanza dall'attuale, dove poter edificare il nuovo negozio. Il collegamento, che avrà un costo complessivo di oltre 900.000 euro, prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile, mentre all'intersezione con Via Traversa Pistoiese verrà realizzata una rotatoria e alcuni parcheggi. Il terzo lotto completa il primo e il secondo. Con la nuova variante, ha spiegato il Presidente della Commissione 4, Massimo Carlesi, si completa un pezzo importante della viabilità. I titolari della gioielleria hanno sollevato un problema di sottostima da parte dell'Agenzia delle Entrate del loro immobile di 120.000 euro, ma è stato respinto in quanto non pertinente con la variante. Turnover da record in Comune entro il 2021, in pensione oltre la metà dei dirigenti. Vi dice tutto Eleonora Barbieri. Oltre la metà dei dirigenti del Comune di Prato andrà in pensione nei prossimi tre anni, per la precisione 9 su 15. E il bilancio peggiora se consideriamo che già attualmente la pianta organica dei quadri ha due posti scoperti. Quello occupato fino a poco tempo fa da ragioniere capo Davide Zenti, che ha lasciato Prato dopo aver vinto un concorso altrove, e quello di Luciano Sampieri in pensione dallo scorso 1 ottobre. Entrambi non sono stati sostituiti e le rispettive deleghe sono state redistribuite tra i dirigenti in servizio. Un bel problema per l'attuale amministrazione e per quella che uscirà dalle elezioni della prossima primavera. I dirigenti per la macchina comunale sono come i direttori per un'orchestra. Farne a meno significa il caos, anche perché per il diritto amministrativo è la figura che si assume la responsabilità legale e di dare corpo e gambe alle idee e progetti della testa politica del Comune, qualunque essa sia. Certo, spetta alla Giunta valutare il da farsi tra sostituire tutti o in parte gli attuali dirigenti o cambiare l'organizzazione della macchina comunale, aumentando o riducendo il numero delle figure apicali. In questo secondo caso potrebbero essere inserite delle posizioni intermedie tra il vertice e la base per ridurre i costi del personale senza rallentare la macchina comunale. Per il momento la pianta organica resta inalterata e si procederà con le sostituzioni attraverso veri e propri concorsi. A giorni sarà pubblicato quello per la ricerca di un dirigente dell'area tecnica. Nel 2019 infatti andrà in pensione l'ingegnere Rossano Rocchi a capo di settori strategici quali mobilità e infrastrutture. Nello stesso anno terminerà la sua attività lavorativa anche Filippo Foti che oggi guida i servizi sociali. In questo caso la sostituzione è improbabile perché il settore a breve sarà a gestione diretta della società della salute e quindi uscirà dalle competenze del comune. Nel 2020 i pensionamenti saranno ben quattro. Quello di Massimo Nutini, attuale capo di gabinetto e responsabile del patrimonio a cui seguono Emilio Martuscelli, responsabile dell'avvocatura, Andrea Pasquinelli, comandante della Polizia Municipale e Antonio Avitabile, responsabile del sistema bibliotecario. Nel 2021 dovrebbe toccare all'architetto Riccardo Pecorario, altro super dirigente di area tecnica, a Rosanna Lotti che ora guida i servizi anagrafici e probabilmente a Emilia Quattrone, capo della protezione civile. Uno stilicidio che potrebbe peggiorare nel caso il governo approvi la quota 100 per i pensionamenti. In questo caso molti dei dirigenti potrebbero addirittura anticipare la loro partenza. Non è possibile pensare che si possa affermare la sicurezza senza mettere mano alla situazione in cui versano le carceri. Quello di Prato è l'emblema di un sistema che non funziona ed è necessario intervenire. Ieri, durante la visita a margine dell'Assemblea del Sappio, ho preso di una lite tra detenuti avvenuta solo pochi minuti prima, lite che è stata soffocata solo grazie alla professionalità e alla prontezza di intervento degli agenti che giustamente reclamano un maggiore riconoscimento. Così Patrizio Lapietra, senatore di Fratelli d'Italia, che ieri ha partecipato all'Assemblea organizzata nel carcere della Dogaia dal sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Lapietra ha illustrato gli emendamenti preparati per il decreto sicurezza in discussione al Senato che si pongono come obiettivo l'aumento delle risorse e dei mezzi da destinare alla Polizia Penitenziaria. La provincia di Prato intitolerà la sala giunta a Elisa Amato, la ragazza pratese uccisa lo scorso maggio a colpi di pistola dall'ex fidanzato. All'intitolazione, programmata per martedì 13 novembre, sarà presente anche una rappresentanza degli istituti superiori pratesi che negli scorsi mesi ha partecipato agli incontri sulla proposta di legge contro la violenza di genere organizzati nelle scuole di Comune e Provincia e dall'Associazione Senza Veli sulla Lingua. Intanto, proprio oggi, è stato approvato dalla Giunta Comunale il protocollo d'intesa per la costituzione di una rete di sostegno e protezione per il contrasto della violenza alle donne nella provincia di Prato. Soggetti firmatari, insieme al Comune, la provincia, con gli altri sei comuni, Procura, Asl, Società della Salute e Ufficio Scolastico Regionale. Al Liceo San Nicolò la didattica diventa virtuale. Sono state inaugurate 5 aule 4.0. Eleonora Barbieri. Penne, libri, quaderni, ma anche una lavagna interattiva e un visore per la realtà virtuale. Al Liceo Scientifico San Nicolò l'innovazione tecnologica diventa uno strumento didattico quotidiano per appassionare gli studenti a tutte le materie inserite nel piano dei studi dal latino alla chimica passando dalle scienze alla storia dell'arte. Questa mattina sono state inaugurate le 5 aule 4.0 dell'unica sezione del Liceo Scientifico del Conservatorio San Nicolò per un totale di 60 studenti. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Pratesi TT Tecno Sistemi e con Acer grazie alla generosa donazione di Carlo e Carla Marini in memoria del figlio Alberto prematuramente scomparso. La preside Mariella Carlotti ha sottolineato l'importanza dell'integrazione tra i sistemi didattici tradizionali e quelli innovativi. Siamo certi che lo scopo della scuola sia introdurre alla realtà non alla realtà virtuale e che i docenti, i libri non tramonteranno mai. Solo altre sei scuole in tutta Italia hanno la stessa dotazione tecnologica del Liceo San Nicolò. È stata pensata da noi insieme a dei docenti che abbiamo consultato questo tipo di approccio cioè solamente un ragazzo fa da avatar di modo che il docente può dividere in due i gruppi. Il proprio gruppo può scegliere ovviamente l'avatar di riferimento e quindi il ragazzo che indossa i visori farà l'esperienza a prima persona ma verrà guidato dai ragazzi, dai suoi compagni del proprio gruppo all'interno di questa esperienza e loro a prendere insieme al proprio avatar, diciamo. Questa è l'ultima notizia, non ce ne sono altre. Io mi fermo qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.